Andre avete ripreso gli allenamenti da qualche giorno dopo la pausa natalizia, come è stato tornare in campo? Sicuramente ci siamo riposati, abbiamo avuto modo di pensare al girone d'andata e il rinizio degli allenamenti ovviamente è stato tosto perché dopo le vacanze di Natale è sempre dura ricominciare ad allenarsi, però abbiamo ricominciato con la testa giusta, ci stiamo impegnando e vogliamo sicuramente ricominciare il girone di ritorno, anzi finire il girone d'andata il meglio possibile e poi il girone di ritorno fare sicuramente meglio. Tra qualche giorno si gioca con Pescara, tra una decina di giorni avete già iniziato a preparare la partita Ma adesso stiamo pensando a recuperare la forma, visto che comunque tra ciatti vari non siamo stati mai completamente col gruppo completo quindi prima pensiamo a recuperare la forma e poi dalla prossima settimana cominciamo a preparare al meglio la partita di Pescara.